Lo SNAMI, il sindacato autonomo dei medici di famiglia, opporrà al decreto Balduzzi un no fermo, che coinvolgerà anche i pazienti a cui saranno spiegati i termini della riforma e i suoi effetti altamente negativi. Così Angelo Testa, presidente nazionale del sindacato, durante il congresso SNAMI a Tivoli, annuncia varie iniziative di protesta contro il decreto. Noi, con i cittadini che vorranno sostenere il nostro punto di vista, useremo i nostri studi per informarli di quello che sta succedendo ed eventualmente lanciare una raccolta firme per indire un referendum abrogativo della legge. Il punto che vede più in disaccordo lo SNAMI è l'aggregazione forzata dei medici. Se noi dobbiamo mettere i medici, avendo questa forza lavoro, a 24 ore al giorno, per forza di cosa dovremmo chiudere tutti gli studi di piccoli paesi, che i medici famiglia sono come i carabinieri, anzi di più, sono anche nelle piccole frazioni, e dovranno spostarsi nei centri più grandi dove verranno fatti questi gruppi. Quindi il vecchietto che ora normalmente va magari nello studio del medico, va anche una o due volte a settimana per farsi misurare la pressione, per farsi controllare, per avere la ricettazione, avrà la difficoltà di dover cercare qualche parente, qualcuno che lo prende e lo porta nel centro più vicino dove i medici saranno tutti insieme per stare tutto il giorno. Quindi per assurdo, anche se l'H24 sembra più disponibile, toglieremo disponibilità a chi più ne ha bisogno, anziani e malati. Per i genitori i figli sono tutti uguali e presto lo saranno anche per legge. Finalmente quella che sembrava un'utopia sociale sta per avverarsi. La Commissione Giustizia della Camera ha licenziato la legge che equipara i figli legittimi a quelli naturali. Ben 100.000 nel nostro paese il 20% dei bambini. Stessi diritti, insomma, senza distinzioni, sono figli e basta. Nelle prossime settimane il provvedimento dovrebbe approdare in aula per il via libero definitivo. Un testo bipartisan che dunque soddisfa tutti a partire dalla relatrice Alessandra Mussolini, secondo cui rappresenta un atto di estrema civiltà. Positivo anche il commento del garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora, secondo cui si tratta di un provvedimento importante che il nostro paese aspettava da molto tempo. Con le nuove norme dunque ad un passo dal via libera definitivo del Parlamento viene riconosciuto a tutti i figli, anche quelli naturali, un unico status giuridico e i bambini nati fuori dal matrimonio potranno avere nonni, zii, fratelli e più in generale vincoli parentali che prima erano loro negati in assenza di legittimazione. Una novità non da poco conto, dato che avrà rilevanza anche ai fini dei meccanismi di ereditarietà. Comunemente si dice di avere mal di testa. In realtà esistono varie forme di cefalee. L'emicrania è senza dubbio la più diffusa. Le cefalee sono infatti distinguibili in tre tipi, quelle primarie, fra cui appunto l'emicrania, quella muscolotensiva e quella a grappolo. Le cefalee secondarie, ovvero quelle che subentrano a causa di patologie cerebrali, psichiatriche o per l'abuso di farmaci e infine le nevralgie craniali, fra cui quella del trigemino. È importante riconoscere il tipo di cefalea di cui si soffre perché ognuna necessita di una terapia specifica. Trattamento farmacologico soprattutto per le forme di tipo emicranico, trattamento di tipo non farmacologico, di tipo fisioterapico o di altro tipo comportamentale, per esempio nelle cefalee di tipo tensivo. Sono sempre di più i neonati affidati ai nonni. Questi ultimi però dovrebbero forse fare qualche corso di aggiornamento sulle ultime scoperte sulle cure neonatali, invece di affidarsi ai rimedi di una volta. Gli errori infatti non mancano. Questo quanto emerge da una ricerca dell'Università dell'Alabama. Errori che vanno dalla posizione del bebè mentre dorme a come deve essere sistemato in auto. E dovrebbero essere corretti prima possibile dai pediatri, visto che negli Stati Uniti ma anche in Italia chi porta il neonato alle visite è spesso proprio il nonno. Le raccomandazioni sulla salute e la sicurezza sono in costante evoluzione e molte di queste sono probabilmente cambiate da quando i nonni che accudiscono i bimbi hanno curato i propri figli. La necessità di informare meglio i nonni c'è anche in Italia, tanto che la Federazione Italiana Medici Pediatri sta studiando dei veri e propri corsi di aggiornamento insieme a Federanziani per insegnare loro come si devono comportare rispetto ad alcuni problemi. Questo è ancora più necessario alla luce degli ultimi studi che vedono 12 milioni di nonni in Italia prendersi cura di 7 milioni di bambini. Sono più stressati, ansiosi e stanchi del solito, tanto che in molti casi perdono persino l'abitudine al gioco. Insomma anche i bambini sono vittime del mal d'autunno, quello che colpisce nel momento in cui si riprendono a pieno ritmo le attività frenetiche della vita di tutti i giorni e il maltempo incupisce l'umore contribuendo a rendere tutto più difficile. Secondo i pediatri più piccoli manifestano i sintomi del loro malessere con l'iperattività o in alcuni casi con il suo esatto contrario, l'apatia, la noia. Secondo i medici il primo consiglio da dare ai genitori è perciò quello di osservare il comportamento dei bambini a scuola, a casa e soprattutto quando giocano con i loro amici perché è il momento in cui sono più spontanei. Se si avverte un cambiamento nel loro modo di agire allora è il momento di provare a rallentare i ritmi e nel caso in cui si riveli necessario rivolgersi a uno specialista per una consulenza. La cura dei bambini e del loro mal d'autunno passa poi anche da una corretta alimentazione a partire dalla prima colazione, fondamentale secondo i pediatri perché dà energia e aiuta il bimbo ad arrivare fino allo spuntino di metà mattina senza calo di zuccheri. Grazie per la visione! Grazie per la visione!